Sì, voglio pure venire al cinema, ma quantomeno mi devi raccontare la trama. Chi siamo? Allora, siamo io, mio fratello, mia sorella, mia mamma, amici, parenti, una cugina a pettego, tutta comitiva. Pecora nera della famiglia. Allora, se sono una pecora nera, tu sei una gatta mola. Persone che hanno reso questo film veramente strepitoso, sapete perché? Perché parla proprio di noi, parla della famiglia, parla dei segreti, di quello che uno non vuole raccontare. E se uno non vuole raccontare delle cose, ma perché sto cazzo a raccontare sto film? Con una canna ho pescato due pesci per volta. Ha fatto cannabis. Andatela a vedere, scusate perché se no mi viene meno proprio l'intento del film. Questa non è una schedina, questa è la tua pagiola delle elementari. Azza, perché se non gestiva nemmeno una pareccia?